Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 1 Aurelia, strada chiusa al transito a causa di un incendio avvenuto tra Pietrasanta e Querceta. In A1 in direzione Roma, coda tra Firenze in Pruneta e incisa Reggello per traffico intenso. Sulla FIPILI, segnalato personale su strada allo svincolo di Livorno-Porto in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord. In direzione Firenze, chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa. Sulla tangenziale di Siena, sono chiusi per lavori gli svincoli di Acqua Calda e Siena Nord. Muoversi di Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!